Ponte sull'Arno a Matassino, filline e incisa Valdarno. Rifatto di tutta fretta dopo la guerra, 70 anni fa circa, utilizzando materiali di scarsa qualità, il ponte presenta probabilmente un deficit strutturale a causa della carenza di ferro, quindi un sottodimensionamento. In materiale, forse di qualità scadente, cemento e sabbia, la sabbia all'epoca veniva prelevata direttamente dall'Arno e vagliata come in uso all'epoca. Altro parametro sottovalutato in questi anni è quello del traffico. Il ponte serviva per il passaggio di alcune auto e molti carretti. Oggi sul ponte trassinatano mezzi pesanti come bilici, automobili, autobotti, tir eccetera. Solo da poco tempo è stato collocato un cartello che tollera i mezzi fino a 26 tonnellate. È evidente che le sollicitazioni prodotte dall'esposenziale traffico con mezzi pesanti, questi producono notevoli sollicitazioni che potrebbero davvero, a causa della struttura insufficiente, causare il crodo del ponte. Già nel 2010, durante la realizzazione della passerella, fu verificata l'assenza di ferro nelle due file centrali. Tale fatto fu verificato sia dall'ufficio tecnico del comune che quelli della provincia. Quindi, 15 anni fa, avevano comune e provincia già preso atto della precarietà del ponte e nulla in questo lasso di tempo è stato fatto.